Anche quest'anno Acer è presente a Didacta perché Acer ha piacere di presentare i propri computer, le proprie tecnologie nel mercato scolastico. Crediamo che gli studenti siano il futuro di domani della nostra nazione e quindi cerchiamo di supportarli al meglio con gli strumenti per l'apprendimento. Quali sono gli strumenti che Acer ritiene più necessari per la scuola? Strumenti sicuramente robusti perché vanno in mano ai ragazzi, strumenti che siano affidabili sia in ambiente Windows che in ambiente Chromebook. La scuola ha bisogno di nuova tecnologia, grazie ai fondi del PNRR da quest'anno è possibile fare grandi progetti e attraverso i nostri partner di canale che ci seguono sul mercato abbiamo la possibilità di offrire queste tecnologie alla scuola. Ma non solo computer per le classi, sicuramente anche computer per i laboratori, quindi per l'apprendimento nel laboratorio, fino ad arrivare ai computer gaming, quindi in area di gamification, quindi gamification di quello che è la scuola. Abbiamo scoperto che l'apprendimento a livello scolastico attraverso l'utilizzo di computer che sono studiati per il videogioco aiuta i ragazzi ad approfondire meglio e utilizzare meglio la tecnologia in maniera più felice nell'andare a utilizzare il computer per apprendere. Ma ovviamente non ci fermiamo a questo, utilizziamo anche i vecchi computer che noi ritiriamo nelle scuole, computer che rimangono magari già centi e tanti anni, andando a sostituirli con computer di ultimissima tecnologia attraverso l'utilizzo anche in maniera ecosostenibile di plastiche riciclate nell'assemblaggio delle macchine. Quindi abbiamo un chassis come il nostro Chromebook Vero che ha oltre il 30% di plastiche riciclate.